il mio numero, ma temo che... Senta, sono sicura che la sua amica non è qui. O le ha dato un numero sbagliato, o lei ha sbagliato. Certo, si figuri. Buona serata anche a lei. Attenzione, la moglie esce dalla cucina. Ed, sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Sì, Franz, è proprio qui nel soggiorno. Lo metto all'ingresso. Mamma, non trovo la mia coperta. Salgo tra poco, William. Merda, c'è anche il figlio. Papà, vieni o no? Krauss esce dall'ufficio. Nasconditi. Lavati i denti. Arrivo subito. Non farti venire da Krauss. Non farti venire da Krauss. Perdo di vista Krauss ogni volta che entra in quella stanza. Dà un'occhiata. Ti resta poco tempo. Trova la valigetta. Papa, sei tu! No! No! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti